Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Non l'ho capito. Non l'ho capito, anche io. La schifferò, infatti, mi dà fastidio. Mario Cartata, sappiamo già dove sta arrivando a questa situazione. Che cazzata, porco Dio. Leva pure questo. L'ho caperto. Madonna, frate, ma questa lobby di rincoglioniti è pessima. Quelli di prima erano fortissimi a fai meme. Ma ci vuole un'eleganza per farli, non me ne avevo reso conto. È la canzone di sottofondo Slowed, che è quello che mi interessa. Quale avrà usato? Senza sapere quando? Avrà per caso usato E cerco la luna? Volendo un po' di fortuna? Che cosa ha usato? Un elefante si dondolava Sopra il filo di un'aragnate Ah! Mio ego! No, non lo posso levare questo. Sennò pensate veramente che non l'avevo già levato questo simbolo. Porco Dio! Allora. Francesco. Bibi. Numero 10 come il capitano Bibi. Oh, ecco che c'è il re! Oh, dai, sì! Continuate a spammarlo perché non riescono a capire che tanto sia di primi a percularli. È il re, è il re! No, ma che è il re? Ma che c'è il re? Ma che c'è il re? Ma che c'è il re? Fa il medio di Blur. Eeeh... E costa pure poco. Costa pure poco. Solo 135 euro nel caso. Se vi interessa. Tutte pure 100. Un ordine pazzia di youtuber che me avevo visto prima. A parte Yotobi che mio figlio segue assieme a Favijè che per fortuna ha parlato di una campagna d'odio contro... Una cosa gigante, il pubblico ha amato questo... Selvaggia Lucarali e Lucarelli stava in mezzo al cazzo ieri, starà in mezzo al cazzo oggi, starà in mezzo al cazzo nel futuro... Però fortunatamente in un futuro che comunque non può durare più di 40-50 anni perché voglio dire... A fine della fiera il tempo fa il suo corso ovviamente. Il ministero degli esterni non credo che esista. È il ministero degli esteri, forse lo dici. Ma Lucio è il ministero degli esterni che è Francesco Marzocchi. Ma no, ma non è, ma non è, ma poi Marzocchi, oddio. Da te, una macchia da un attimo ormai. Eeeh, che strani nomi! A me vede... No, non c'è. Mazzà, che ricercò tu! Dov'anna così, fratelli? Zio porco, manco posso autocarriarmi il treno dopo. Dov'anna così, all'aghi. Gioco del pesce nell'acquario Waiting Room, faccina accaldata occhi. Se vi faccio vedere Steam ridete. Cioè, letteralmente, ci sta una ciole. Potevo andare a fare uno v uno su Rainbow Six, guarda. Amo uno v uno su Rainbow Six con Sheetalking. Quello può far ridere. Andre, bentornato. Non ci andrei mai. Se l'ha inviato. Oh, porco Dio! Scusami, eh, mi ha mandato un animale, un isolo paura degli insetti. Schiposo pezzo di merda! Buonasera, Marzone. Spero tu stia bene, minore 3, minore 3. Ma in che sette? Dove l'avamo andato? Un secondo. Un secondo. Porco Dio, eccomi qua. Mi raccomando. Come Gianmarco mi ha detto, picchiate le donne. Cioè, Manuxo pure ha usato la voce base di Twin Jones. Dammo, tocco e sdronco e strago e stocco. Ti leccherei quelle pallacce grosse e giusi. Si va letteralmente male. Ma qualcuno non riesco a capire. Strane le foto, devo essere onesto. Questo è colpa di un video che abbiamo visto di Poldo, porco Dio. E io non sono agitato, anzi, lo trovo divertente quando sto cercando effettivamente dei ristoranti. Ma andiamo avanti, perché abbiamo il ristorante Tasca Galileo, abbiamo Gusto Bistrò, ci sono buoni ristoranti, abbiamo Basal, abbiamo anche pizzeria Francesco Marzano, una pizza sempre aperta, 24 ore su 24. Abbiamo Zucupizza Bacirotocco e poi basta, non è mai vero. Questo vado proprio a raccontare. Eravamo io Arthur, ma quello caga smerda di Jay Anu era mangiare con burger e taco. Mamma mia Z, da buccezza, poverino, l'abbiamo proprio plasmato male il ragazzo. Ma co, Jay Anu, spalleggi di buco di culo. Ah, bisogna giocarti, eh ma io sono molto ignorante su questa roba, fortunata, fortunatamente. Ma leggo sto giocarti la fresca, ma giocarti la fresca, ma che significa? Ti giuro che sarà un modo vecchissimo di dire, ma io non l'ho mai sentito dire in vita mia, non ho mai avuto a che fare con... Oh, vi giuro! Regolare È regolare Regolare Rimesso, regolare Fagioli Fagioli non ha giocato mai la sua squadra, mentre Zaniolo ha giocato la Roma mentre era in panchina. Ci, se se so... Vabbè, eh, eh, comunque c'è, non... Ciao, sono qua nel ragazzo da dove hai comprato quei cinquetti di cocaina, ti informo che il carico è stato spedito con successo, buon divertimento. Eh, tagliatemela bene, zio porco che mi fate girare i coglioni, che l'ultima volta faceva schifo. Ma sei pippo! Ho ancora un po' di... Ma perché hai messo quella cosa? No, sono i miei canini. Dei denti? Sono i miei canini. Vabbè, quindi? Voto da me la 10? Sei! Grazie! Sei! Sei! Ciao, ciao! Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ammazza che buona porco Dio! E mi lasciava la porta aperta, giusto? Spingere col treno! Chi era, oh? Chi è che gli ha fatto spingere col treno alle due di notte, oh? Non ho mai visto una persona così vogliosa alle due di notte, tranne Anita, verso le tre e mezza, quando ne vuole uno a livello 10. È uscita tutta malissima. Allora io mi rialzo dal letto. Ma la vera domanda... No, bro, non finiamo. Bravo! Voglio morire. Oh, bradè! È uscita! Non so, ma cos'era quell'arma? Voglio morire, voglio morire. Voglio morire. Facciamo una box fight. No, Marzo, hanno vinto due su tre, se ho preso il punto su Fortnite. Se lo so prese. Perfetto. Meritatissimo, meritatissimo. La clip fa dove il maestro sarà a sparare razzi infiniti da dareci vedere. Semmo arrivati, siamo arrivati. E guarda dove vai. Oh, zitta, troia, porco Dio. Boom baby bye, boom baby bye. E' il taglio, il taglio con l'esplosione. Veramente cinema, cinema, complimenti. Ah, benvenuti a voi. Quanta sub le ho giftate ieri che c'era Sofia. Non c'era Sofia, mi dispiace. Da teme sto VIP e nessuno si farà male. Non c'era Sofia, nessuno ha visto Sofia. Alec, grazie per le cinque sub. Fate! Ma me l'hai fatta qua la cosa su... Eccola, è lui, è lui! Ragazzi, questa devo per forza raccontarvela. Avrete sicuramente sentito parlare di burger e tacos. Ebbene, sì, come vi starete immaginando, hanno colpito di nuovo. Io mi domando cosa abbiano contro di me, Blower. Però stavolta non gliela farò passare liscia. Ero a Ibiza in vacanza. Questo... Eeeh, c'è ma sta? Ero a Ibiza in vacanza. E' giusto. Nel momento in cui leggerete queste parole, da qualche parte una donna sarà uccisa. Nel momento in cui leggerete queste parole, da qualche parte una donna sarà uccisa. Nel momento in cui leggerete queste parole, da qualche parte una donna sarà uccisa.